allora belli miei andiamo a vedere xur così poi sta parte qui di live la metto su youtube per quelli di voi che non riescono a seguirmi e vogliono sapere le mie su xur se comprare non comprare eccetera eccetera sure sulla torre come ogni settimana se il focolaio è su mercurio su marte altrimenti di solito va nel posto del focolaio quindi 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 oggi è sulla torre solito posto qui nell'angolino nell'hangar let's go let's go allora allora abbiamo la barriera a reazione acd barra 0 per il titano che dice le uccisioni corpo a corpo accumulano energia nella barriera reazione quando si è colpiti da un corpo a corpo l'energia liberata causa un'esplosione devastante guanti un po così e così di certo non se la battono con i sintocipidi anche se in teoria in teoria anche questi hanno il loro perché sicuramente meglio oddio meglio non lo so sicuramente forse in pvp sono migliori da usare piuttosto che in pv e anche seppure in pv comunque quando si è colpito da un corpo a corpo l'energia liberata causa un'esplosione devastante quando per esempio ci troviamo in una situazione che siamo circondati da i troll potrebbe e dico potrebbe avere un senso avere questa barriera reazione però mettiamola in seconda fascia il protocollo del fuoco stellare esotica top da avere su destiny 1 su destiny 2 è un po così le granate a fusione possiedono una carica aggiuntiva e si rigerano più velocemente le uccisioni con granata a fusione ricaricano l'energia della fonte allora la cosa interessante che si può fare con questo pezzo è quello di fare i fonti a ripetizione se si uccide con la granata la fonte si ricarica e quindi che ne so si può piazzare un piazzare un una fonte tirare una granata piazzare un'altra fonte dire una granata e così via certo ma naturalmente non con questa velocità purtroppo per come ogni volta presentiamo i pezzi di xxur quasi sempre ci sono esotiche migliori purtroppo per quanto riguarda lo stregone una su tutte ormai oddio l'ho comprata così ma si spendiamo spendiamo tutto ci sono esotiche migliori per lo stregone sicuramente a partire dagli stivali della luna fazione che ormai sono diventati un must da avere in pv e quindi anche questa ahimè passa in secondo piano sorvoliamo e passiamo allo gelo o gel 0 n 1 come volete chiamarlo voi quando si scatta le granate corpo a corpo e la schivata si rigerano più velocemente schivare aumenta la velocità di scatto questo è un buon buon io intanto gioipad lo poso rega così non compro niente un buon pezzo ma stesso discorso mettiamola in seconda fascia perché sicuramente sia in pvp che in pv ci sono esotiche migliori una su tutto il casco le bighe di orfeo addirittura vi ci metto le maniche elettro truccate che ho provato giusto ieri mi sono fatto qualche partita in pvp con le maniche elettro truccate e la visione per vedere come funzionavano in pvp al posto di usare il solito casco e non è andata malissimo non è andata malissimo queste qua ma sicuramente sicuramente il fatto di poter aumentare la velocità è qualcosa che in pvp aiuta se usarle o meno rispetto ad altri pezzi sinceramente non lo so anche questa quindi direi di metterla in seconda fascia scarlatta quest'arma sparano una raffica di tre proiettili uccidere con quest'arma ripristina la salute le uccisioni precise riempiono il caricatore top raga arma da avere assolutamente nella sua versione anche non prodigiata come magari ce la posso avere io che non me la fa vedere adesso da qui ma sappiate che aumenta la gittata ancora di più quindi praticamente non dico che diventa un ricognizione ma poco ci manca ottima da avere in pvp soprattutto per quando ci sono tanti nemici da uccidere il fatto che ogni volta che uccide un nemico vi fa recuperare vita vi aiuta tantissimo tantissimo a stare tranquilli è un'arma che si usa magari facendo che si sta usando principalmente per fare i penni delle fazioni quando si ha un un grado 5 per le fazioni ma in pvp pure buonissima è ottima un'arma ottima non delle top quindi diciamo che sta un pezzettino sotto l'ala della vigilanza e la lancia gravitazionale però sta lì insomma quindi questo è sicuramente un'arma da prendere se non ce la vede raga le esotiche oddio mi risulta difficile anche fare una classifica sta settimana raga perché sono tutte e dico tutte in seconda fascia se proprio dobbiamo farla io le metterei come sono adesso barriera reazione protocollo del fuoco stellare e come ultimo posto i giro number one classico in grama predestinato che ormai conosciamo tutti ragazzi se vi manca qualche pezzo comprate questo così lo droppate c'è il 3 di ori ma c'è anche il 5 di spade che è quello che mi chiedevate prima che è quello che serve per modificare i modificatori del calanotte con questo potete appunto moltiplicare il punteggio penalità di potere eccetera 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 quindi xur stasettimana è buonino solo per l'arma le armature poca roba quindi scarlatta e le armature prendetele soltanto se vi mancano bene